Aperto il mercato multietnico nel terzo tunnel della stazione di Pescara ospiterà una sessantina di commercianti per lo più senegalesi. L'imperativo d'obbligo è la vendita di prodotti non contraffatti. Sono note le vicende e le polemiche che hanno portato all'apertura del mercato alla stazione di Pescara, voluto dalla maggioranza di centro-sinistra. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 20. Partenza a singhiozzo però perché mancano gli ultimi permessi burocratici ma da lunedì, come ci dice questo commerciante, il mercato entrerà a pieno regime. Ieri sera verso le 4 è iniziato il mercatino. Oggi apriamo alle 8 mesi fino alle 9 stasera. al mercato ci sono due anni fa. Due anni fa ci siamo e grazie a Dio appartiamo noi perché noi siamo qui, ha 30 anni che lavoro qui di Pescara. C'è anche mia famiglia, mia moglie, un bambino, tutti sono qui. È un po' difficile per due anni di vivere perché nessuno può andare a lavorare. Quanti commercianti sarete qui? Qui ci sono 99 posti, 99 commercianti, ma tutti non sono ancora arrivati. Adesso siamo forse 60-60 persone qui. Vendete ovviamente tutta la roba in regola, siete tutti in regola? Tutta la roba in regola. Qua il mercato non possiamo entrare nella roba controfatti perché noi prendiamo la responsabilità per nessuno portare qui la roba controfatti. No.